Oh no, la c***o! No, Agnuno, è spaventoso! Madonna santa! Che c***o? Non mi dà niente! Madonna santa, che è? A quanti metri siamo qua? Ma guarda il c***o! Penso che fosse morto! Che c***o! Ma guarda che c***o c***o! Ma che c***o sta c***o qua? Sei c***o? Qua penso che comunque sia sempre così! Sì, ma è proprio forte la visitazione! Sì, dico, anche per lo staff! C***o! C***o! Ma madonna santa! C***o! Porca p***a! S***o! Quella non è scaccia la neve! C***o è neve! Sta facendo il delirio! È proprio forte la precipitazione! Ma si viene, vedi? Ora è un po' sotto il c***o! C***o! Ma qua sta facendo la tempesta! Porca p***a! Qui veramente si ritrova un metro e mezzo domani! C***o! Porca vacca! Un po' rende! Eh, rende sì! Non è male che c'è stata la verga! La c'è il buco! Meglio dello sinistro! Buco! Che tanto prendi la rota lì! Vati fermi! Non esci più, eh! Madò! Madò! Ognuno lo state vedendo! Madò! È spaventoso! È un filmato! Qua esci di qua e diventi un po' pozzini! È un filmato ragazzi! È un filmato! Ma io penso che sull'Altamurgia non lo stanno facendo forte! No così! Non lo so! Per sopra sì! Siamo a 600 metri siamo ora, giusto? Sì! Classi dell'agricoltura! Classi dell'agricoltura! Sì! No, stanno facendo così! Ma è andato! Ma le mattine ci possiamo andare! Dove? A le case! No! Le case là! Monte... Oh mio! Le case dell'agricoltura! Mi si chiama! Pazzasco! Pazzasco! 605! 600! Ognuno! 605! Cioè qua siamo 605! Qualtezza di via Corallo! Eh! Ma non è questione dal testo! Cioè è questione di... Conformazio! Conformazio!